Nel 2020 che sta per iniziare l'erogazione dell'acqua H24 è ancora una chimera. Tanti quartieri ancora secco e il malumore degli utenti senza acqua da giorni monta ovunque in città. Non solo Caposoprano come segnalato diversi giorni fa e che solo oggi vede tornare l'erogazione a livelli accettabili. I disservizi vengono segnalati anche in altre zone. Tra le più colpite quella di via Butera dove tante famiglie sono rimaste senza fornitura idrica. Da giorni ormai non riescono ad avere riscontri neanche dagli uffici di Caltacqua che non risponde alle istanze di chi l'acqua non la vede ormai da tempo. Senza forniture non si riesce neanche avere una scorta idrica per tentare di sopperire alle enormi difficoltà. Quando l'acqua c'è invece è torbida come ribadito da un'ordinanza del sindaco che ne ha imposto il divieto praticamente in mezza città. Ma non si può star tranquilli neanche quando l'acqua arriva. In alcune zone della città spesso per l'eccessiva pressione finisce per strada. Succede ad esempio in alcune vie che ci sono state segnalate dai cittadini. In via Portuenze, angolo via Pontina, nel quartiere Fondo Iozza, ogni volta che viene erogata acqua, strada e marciapiede si allagano. Il 20 agosto, come ci racconta un residente, i tecnici di Caltacqua hanno fatto un sopralluogo. A novembre e dicembre nuovi solleciti ma la situazione è rimasta immutata. E dal mese di agosto che ho fatto il sollecito mia moglie ha telefonato a Caltacqua per sistemare questa perdita di acqua che ho sotto casa mia. Sono venuti a fare un sopralluogo dei responsabili, non so chi sono, e dovevano riparare questa situazione di qua. Però ad oggi, a distanza di quattro mesi, ancora c'è questa perdita di acqua, perché l'acqua è necessaria per tutti. Poi parliamo di acqua che si perde, però qua si perde acqua a fiume, direttamente sul marciapiede e in garaggimento del favore dell'acqua. C'è un danno enorme. Ho sollecitato fino al 4 di novembre, il 12 di dicembre, ad oggi non si è visto nessuno. E ancora c'è acqua che perde, tutt'oggi. Basta spostarsi poi in via generale Cascino, nei pressi del tribunale, e il copione è lo stesso, se non anche peggio. Sono anni che l'intera strada si allaga fino a coprire persino i marciapiedi. Una situazione insostenibile denunciata decine di volte è mai risolta. Anche in questo caso, da mesi, gli utenti segnalano il guasto al servizio clienti di Caltacqua, senza ottenere alcuna risposta. Meno di 800 metri più a nord, stessa situazione e stessa perdita d'acqua. È quanto si sta verificando da tempo nella zona di via Puglia. Diversi residenti hanno segnalato una falla che causa consistenti perdite idriche. Pare che del disservizio siano stati informati i tecnici di Caltacqua, senza però che ad oggi ci siano stati interventi.